Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'interno di questo nuovo video del Calcio al Bar Io sono Giancarlo Alberto, Marco Antonio e insieme ad Andrea affronteremo alcuni temi Il primo calcistico, il secondo, sarà sulla Formula 1 Ricordiamo che appunto in questo weekend ripartirà proprio il campionato Invece Andrea, so che hai una teoria particolare su Maurizio Sarri Ce ne puoi parlare per favore? Buon pomeriggio caro Giancarlo Alberto, a te e a tutti coloro che stanno guardando questo video Invito a lasciare un bel like e una bella iscrizione Hai ragione, ho una teoria abbastanza strana e particolare Giuseppe Murigno e Maurizio Sarri sulle panchine di Roma e di Lazio sono arrivati più o meno nello stesso momento Molto spesso in questi anni, un po' come cane e gatto tra virgolette, hanno avuto scontri anche in comunicazione E sono stati un po' l'uno lo stimolo dell'altro per far bene Mentre appunto la Roma alzava la Conference League, comunque la Lazio arrivava di poco sopra in campionato sui giallorossi Mentre la Roma perdeva la finale di Budapest, la Lazio arrivava seconda in campionato La formazione bianco celeste ha avuto quel periodo molto positivo tra dicembre e l'inizio del nuovo anno Ed è coinciso con il momento forse più terribile, peggiore dell'era di Giuseppe Murigno sulla panchina della Roma Anche con la relativa eliminazione in Coppa Italia che molto probabilmente è costato l'esonero al tecnico portoghese E da lì la Lazio ha cominciato a calare il suo rendimento Ora non so se è solo una mia impressione, sicuramente divisiva, controversa questa teoria Però è come se uno fosse la nemesi dell'altro Una volta caduto questo rapporto tra virgolette disfunzionale Sarri e la sua Lazio hanno cominciato a calare con le prestazioni e sono andati un po' in crisi So che è una teoria abbastanza astrusa, però io credo questo Sono arrivati quasi allo stesso momento ed è come se fossero legati da qualcosa più grande di loro Sì Andrea ed è interessante, certamente divisiva perché molti qui potrebbero non essere d'accordo Però molto interessante Passiamo poi alla seconda domanda relativamente alla Formula 1 Sta per ricominciare proprio in Bahrain la stagione Anzi in queste ore si corrono qualifiche e il Gran Premio ci sarà di sabato Questo perché il 10 marzo inizia il Ramadan E quindi dovendosi poi spostare in Arabia Saudita Si correrà il 9 per dare alle squadre un giorno di tempo in più Che cosa vedi all'interno di questa stagione? Super Max è sempre il favorito? Si caro Giancarlo Alberto Riparte la nuova stagione di Formula 1 E Red Bull sembra avere un passo superiore di nuovo a tutti Verstappen è campione del mondo E quindi sa anche come si vincono certe gare difficili Sa anche gestire i momenti complicati della stagione È cresciuto tanto anche a livello di testa Sembra avere una macchina di nuovo competitiva La Ferrari dai test dimostra di essersi avvicinata Ma i test sono attendibili solamente in parte Perché primo tutti hanno migliorato Secondo tutti si tengono qualcosa per il momento più importante Della stagione a livello di prestazione E terzo perché poi la Ferrari lo scorso anno ha dimostrato un gran passo in qualifica E poi in gara stentava Questo potrebbe essere il tallone d'Achille della scuteria di Maranello Mi aspetto che Verstappen possa far bene In questo gran premio del Bahrain Però occhio al talento di Charles Leclerc Speriamo che Vassar abbia lavorato bene con il suo team E abbia portato la Ferrari su un livello certamente più alto Sì caro Andrea Certamente la Red Bull è un passo avanti rispetto a tutti Adesso procediamo con la classica domanda provocatoria E poi i saluti finali Io vi do un forte abbraccio E vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia Infine sì caro Giancarlo Alberto La domanda provocatoria Dal 2025 Lewis Hamilton e Charles Leclerc Saranno due galletti nel pollaio Oppure saranno due compagni di squadra utili e preziosi Per riavvicinarsi alla lotta al titolo Il bar è sempre aperto Grazie a tutti